L'orizzonte temporale adesso indica un'altra data, un nuovo incontro a Roma a Palazzo Chigi entro marzo di 7 novembre per definire il futuro del ciaierie d'Italia. Ma il governo ha fornito un'altra rassicurazione ai sindacati Fimma Fium e Wilm scesi in piazza a Roma nella giornata di venerdì 20. Accantonate le voci di amministrazione straordinaria, l'ex Silva non si tocca, non ci sarà né la fermata della produzione né la liquidazione, che avrebbe conseguenze gravissime non solo per l'occupazione, riducendo al lumicino la possibilità dei creditori, tra cui spiccano le aziende dell'indotto Tarantino, di riscuotere i pagamenti per i lavori già effettuati. Sono solo segnali e adesso bisognerà comprendere quale direzione imboccherà l'esecutivo per salvare e rilanciare il colosso siderurgico. La via principale resta quella di un accordo con l'attuale azionista di maggioranza Arcelor Mittal, c'è una trattativa a fare i spenti in corso da tempo, i sindacati hanno ottenuto la garanzia che nessuna decisione sarà presa senza consultarli, la mobilitazione però non si ferma, come è chiarito nel comizio finale, in piazza il segretario nazionale della FIOMCGL Michele De Palma. Da adesso in poi la mobilitazione è permanente in attesa della nuova convocazione. Lo stato di agitazione e di mobilitazione è permanente fino a quando non si raggiunge un accordo che raggiunge degli obiettivi fondamentali. C'è anche l'ipotesi di un definitivo fallimento del confronto con Arcelor, in quel caso tornerebbe d'attualità il cosiddetto piano B, tutti i sindacati, comprese USB e UGL, chiedono che lo stato transiti in maggioranza e poi in caso di rottura bisognerebbe trovare un nuovo soggetto privato o più di uno.